Ecco, oggi Marco Furvi dispone al Circolo degli Artisti la Casa di Rampo di Firenze e qui con una serie di opere e diciamo tutte particolari perché raffigurano dei personaggi. Allora io chiedo a Marco, come mai questi personaggi? Sono amici, sono persone che ho frequentato in situazioni diverse, per esempio c'è un ragazzo che ho conosciuto in aereo quando andavo in Giordania che era scappato da Kabul, abbiamo fatto amicizia e poi lui mi ha raccontato la sua storia, la sua fuga a 16 anni da Kabul e poi lui era in Italia adesso, siamo diventati amici e ho deciso di fare un ritratto perché ho detto, guarda, tu sei un eroe del nostro tempo e tu hai un ritratto. Altre persone, per esempio lei è una poetessa che poi ha presentato questa mia mostra e vita logica, oltre a essere una bravissima poetessa siamo molto amici e poi ci sono altri amici oppure persone che mi hanno chiesto proprio di fare dei ritratti. Tutto casuale, sono degli amici di palestra, ci sono degli amici che ho conosciuto casualmente, sono dei volti che mi hanno colpito perché è molto particolari, ho chiesto loro se potevo ritrarli, nonostante la vergogna di queste persone a farsi ritrarli. La situazione non è sempre la stessa e comunque scatuisce sempre da un quotidiano, so che altro di ieri. Benissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.